Blitz antiprostituzione, sette le donne sanzionate con verbali da 500 euro. Le forze dell'ordine hanno agito nella giornata di ieri lungo la fascia litoranea nella zona di Campolongo dove purtroppo da anni insiste la presenza di donne straniere ed italiane in molti casi, sfruttate e costrette al meritricio. La Polizia Municipale agli ordini del comandante Sigismondo, Lettieri e Garabinieri del comandante Emanuele Tanzilli hanno fermato e verbalizzato per esercizio dell'attività di meritricio sette ragazze straniere, in particolare quattro bulgare, due rumene ed una africana. Sono stati combinati dei verbali di 500 euro essensi del regolamento di Polizia Urbana. Inoltre gli inquirenti hanno anche controllato due casolari dove quasi certamente le donne straniere li utilizzavano come rifugi, una sorta di casa almeno per dormire e mangiare qualcosa sotto un tetto dopo serate all'agliaccio costrette a prostituirsi. Sono stati fermati anche due veicoli sospetti in pieneta a bordo dei quali verranno dei pregiudicati provenienti dal napoletano. Identificati adesso sono al vaglio dei militari per le loro posizioni. Potrebbero essere collegati ad attività di spaccio, sono in corso verifiche da parte degli inquirenti. Sul BRITS, svolto dalle forze dell'ordine, si congratula da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Maria Conte l'assessore alla sicurezza Antonio Corsetto. Lo stesso assessore ha annunciato che ci saranno quattro nuove assunzioni a tempo determinato per otto mesi per agenti di Polizia di prossimità ed antiprostituzione. Il Comune ha predisposto il bando per il finanziamento di 40.000 euro. L'assessore Corsetto ha confermato. Stiamo predisponendo il bando per il finanziamento di 40.000 euro per aggiungere quattro nuove unità a tempo determinato per otto mesi per l'antiprostituzione e la Polizia di prossimità, cioè di periferia. Questo servirà per dare maggiore sicurezza ai residenti in aree periferiche della litoranea, ma anche per dare maggiore presenza sul territorio di unità indivisa che possono fungere anche come deterrente per i malintenzionati. Grazie a tutti.